in questi giorni mi è successo qualcosa credo fosse l'area di vacanza ma il mio corpo era stremato o la mia voglia di fare insieme a quella di divertirmi facendo erano andate svanite non avevo molto da dire forse il sole caldo ai tempi da spiaggia forse il sale del mare forse il fatto che in vacanza non si ha proprio mai tempo di fare niente la mia creatività e intenzionalità erano sparite come portate via da un'onda di mare toscano dimenticavo di giocare il più possibile passare tempo insieme facendosi scaldare dal sole estivo e non troppo invadente dentro e fuori dall'acqua e poi immaginare trasportare costruire montare cambiare perdere e poi di nuovo ricominciare ma un altro tipo di costruzione e di fantasia un altro modello di fare è bello in questi giorni perdersi un po' anche nel tempo nella voglia di fare cose che non sono necessarie e che sono solo divertenti programmare appuntamenti che aiutano questi video ma in funzione di una scala del divertimento che deve solo aumentare per poi ricominciare Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori